Ad Enna il Festival della Legalità Teatro Scuola, nove compagnie in gara, tre istituti scolastici e scuole di teatro. Eleonora Mastromarino. C'è anche Rosa Balistreri tra le figure femminili raccontate al Festival della Legalità Teatro Scuola di Enna di quest'anno. La Cantastoria Siciliana è l'emblema del tema scelto per il Taleta Letalia, che si concentra sul coraggio delle donne nel determinare un futuro diverso. Al Festival si sono esibiti cinque istituti scolastici e quattro scuole di teatro, dalla Sicilia ma anche da Torre del Greco e Foggia, in gara per aggiudicarsi i premi in palio. È stato davvero bello vedere come i ragazzi di realtà diversi hanno affrontato temi simili ma comunque in modi completamente differenti. È stato davvero stimolante. È una scelta molto forte perché grazie alla semplice immagine, anche poche parole, magari soltanto il corpo, il movimento, si riesce a comunicare molto che magari un semplice documento testuale o un articolo giornalistico, per quanto sia capace di informare, non riesce a comunicare le stesse emozioni. Un festival è arrivato alla seconda edizione e che sembra crescere per interesse e partecipazione. Molta partecipazione da parte di tutte le scuole ma soprattutto grande affluenza di pubblico. Abbiamo avuto almeno dai 3.000 ai 4.000 posti sempre occupati al teatro.